3 anni ed 8 mesi di reclusione. Questa la pena patteggiata dal trentenne armeno che lo scorso settembre accoltellò a Sansepolcro l'amico che festeggiava il compleanno. Per lui l'accusa era quella di tentato omicidio. I fatti risalgono la notte tra il 24 e il 25 settembre. Quella sera la vittima, un trentotenne di origini rumene, stava festeggiando il compleanno. Ad accendere gli animi sarebbero state, dopo qualche bicchiere di troppo, delle attenzioni non gradite alla fidanzata del trentotenne. Sarebbe così scoppiato una breve rissa, ma poi il trentenne avrebbe attirato il festeggiato nell'androne di casa, poco lontano, sferrando gli due fendenti all'addome e al torace, molto vicino al cuore, con un coltello da cucina. Immediata la corse nell'isoccorso all'ospedale Le Scotte di Siena. Il trentotenne nella notte fu sottoposto ad un complesso intervento che gli salvò la vita. Nell'arco di poche ore i carabinieri di Sansepolcro riuscirono ad individuare ed arrestare il trentenne. L'arma fu invece ritrovata sopra ad un tetto dove il giovane, nel tentativo di sbarazzarsene, l'aveva lanciata. Adesso il legale del trentenne ha proposto il patteggiamento della pena, richiesta condivisa con la pubblica accusa ed accolta dal gruppo Giulia Soldini. Il giovane sconterà la pena nel carcere a Retino di San Benedetto.